Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. A prova da oggi all'esame della Giunta la delibera che permetterà di utilizzare 13 milioni del PNRR destinati a Roma per la realizzazione di 54 chilometri di piste ciclabili per le quali esiste già un progetto definitivo. Lo ha fatto sapere l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè. Inoltre venerdì approderanno in giunta le linee guida del piano urbano parcheggi mentre nelle settimane successive verranno esaminate quelle per il piano delle colonnine elettriche. Inoltre ha fatto sapere l'assessore entro il mese di giugno verrà presentata la delibera riguardante il piano delle merci e della logistica. Tutti i dettagli sul sito romamobilita.it